A 16 anni è accusato di aver rapinato un giovane turista ad Agropoli. Per questi motivi un minore cilentano è finito in comunità. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabio Lagarello. I militari hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. Il minore risulta gravamente indiziato di aver commesso una violenta rapine l'estate scorsa presso il porto turistico di Agropoli ai danni di un giovane turista a cui avrebbe sottratto una collana d'oro. Le indagini condotte sotto la direzione della compagnia di Agropoli hanno consentito di acquisire tutti gli indizi attraverso il recupero dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza che presidiano il territorio della cittadina cilentana. Ancora una volta questi strumenti sono stati determinanti ai fini investigativi. Attraverso la visione delle immagini i militari dell'armo hanno avuto modo di ricostruire la dinamica dei fatti così come descritti nella denuncia dalla persona offesa che aveva raccontato in modo dettagliato le varie fasi della rapina subita che vedeva coinvolti con ruoli diversi, diversi giovani alcuni dei quali sono ancora in corso di identificazione. Inoltre da un'attenta analisi dei filmati i carabinieri hanno avuto modo di individuare il 16enne attualmente collocato in comunità peraltro già aggravato da precedenti specifici. La persona offesa ancora provata dalla violenza dell'aggressione subita durante la quale aveva riportato anche lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ha fornito un definitivo riscontro agli esiti indiziari raccolti dagli investigatori. La richiesta cautelare avanzata dalla procura per i minorenni di Salerno diretta dal procuratore della Repubblica Patrizia Imperato è stata accolta dal GIP che ha disposto il collocamento in comunità del minore in attesa di procedere nei prossimi giorni all'interrogatorio dell'indagato. Grazie. 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 Grazie.